Musica Erano due appartamenti sequestrati alla Camorra, poi occupati abusivamente fino al 2012. Oggi il Comune restituisce alla collettività i locali della zona di Via Terracina a Fuorigrotta, dopo aver selezionato tramite un bando pubblico l'associazione Carmine Gallo Onlus, che opera presso l'ospedale Pausillipon. Gli spazi sono diventati la casa di Alice, struttura di accoglienza per le famiglie dei bambini affetti da patologie tumorali o del sangue. La struttura è stata inaugurata questa mattina col sindaco De Magistris e la testimonian Lorella Cuccarini, socia fondatrice di 30 Ore per la Vita. È una giornata di festa che quindi vogliamo condividere con tutti quelli che ci hanno creduto, quindi con la RAI in primis, con tutti i conduttori che hanno supportato i nostri progetti e naturalmente con una comunità di donatori che ci segue ormai da 21 anni. Per cui insomma è una grande giornata di festa e è bello vedere la trasfigurazione di un appartamento come questo, di case che sono state tolte dalla criminalità e che da domani diventeranno un luogo di accoglienza e un caldissimo abbraccio per tutti i genitori che hanno bisogno ancora di più proprio in questi momenti del nostro apporto. Sarà una struttura per l'accoglienza di famiglie con giovani figli malati di cancro provenienti da tutta la Campania o da altre regioni. Un vero e proprio stello dove i piccoli degenti potranno riposare e distrarsi tra un dei ospital e l'altro con ogni tipo di comodità, anche se lontani da casa. Questa è la strada migliore per dare dei segnali di solidarietà, di umanità e di inclusione e quello che si sottrà alla camorra si dà al territorio attraverso le associazioni che ci credono e quindi un ringraziamento particolare va a tutti i volontari, non solo della Carmine Gallo ma di tutti i volontari della nostra città che danno il meglio di sé per stare vicino a chi soffre. Quindi è una bella giornata effettivamente per tutti noi.